Da tre anni a questa parte è diventato una sorta di stella polare che orienta e scandisce l'attività del collegio. Il premio Ghislieri, assegnato ogni 12 mesi ad un ghislieriano sotto i 40 anni di età, vuole essere un riconoscimento che valorizzi il contributo offerto dagli alunni nel proprio campo professionale. Merito senza dimenticare la promozione dell'identità istituzionale, sono al centro del premio che per la sua terza edizione ha scelto come tema le scienze giuridiche. Giovanni Grevi, alunno del collegio dal 1992 al 1997 e direttore a Bruxelles di Fride, fondazione per le relazioni internazionali e il dialogo esterno, ha ottenuto quest'ambito riconoscimento per le posizioni di crescente responsabilità ricoperte e l'originalità e l'impatto dei progetti di ricerca condotti. Questa per me è una grandissima soddisfazione, è un onore. Ghislieri mi ha dato moltissimo durante gli anni dell'università. L'esperienza di Pavia è stata irripetibile. Mi accompagna all'estero, da Londra, a Bruxelles, a Parigi, e essere qua oggi con molti amici è davvero una grossa soddisfazione. L'occasione del premio Ghislieri 2012 per celebrare un altro alunno vincente, il professor Guido Rossi, insegnato con un riconoscimento alla carriera per aver restituito al collegio una fama ed una notorietà fondate sul rigore scientifico e sulla sollecitudine morale. Beh, io non solo sono emozionato, ma sono estremamente onorato, perché oramai nella mia lunga vita devo dire che gli anni passati in questo collegio sono stati assolutamente tra i più belli e in verità i più fruttuosi. Senza esser passato di qui sarei stato completamente un altro e certamente peggio. Grazie.